Il comune di Castellabate aderisce anche quest'anno a Puliamo il Mondo, sabato 18 settembre, con l'obiettivo di valorizzare l'isola di Ricosa, grazie all'impegno di un gruppo di volontari provenienti dalle tante associazioni locali e dai singoli cittadini. L'appuntamento è alle ore 10 sul porto di San Marco, dove verranno distribuiti i kit con guanti, sacchetti, pettorini e cappellini in lega ambiente per poi mollare gli ormeggi a bordo delle imbarcazioni alla volta dell'isolotto, simbolo di Castellabate, per la missione di pulizia dai rifiuti spiaggiati. Per partecipare basterà prenotare contattando direttamente gli organizzatori dell'iniziativa Pasquale Colella del circolo Una vita per il mare o Assuntaniglio, referente dell'ufficio Area Marina Protetta, De Manio. Quest'anno ci sarà ovviamente un'attenzione alle norme di distanziamento e l'uso obbligatorio della mascherina per i partecipanti. Il Comune partecipa sempre a questo tipo di attività perché il coinvolgimento dei cittadini aumenta la responsabilità sociale e la sensibilità nei confronti dell'ambiente, ha commentato il Sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Ringraziamo gli organizzatori per il forte spirito di servizio che riuscirà sicuramente a veicolare il messaggio di un Comune all'avanguardia e attento alla tutela della natura che è una risorsa di tutti, fondamentale e preziosa. Prossimo appuntamento con l'ambiente per la pulizia degli arenili, l'adesione alla data nazionale di Plastic Free con il patrocinio all'iniziativa che si svolgerà domenica 26 settembre con ritrovo alle ore 9 presso i cantieri navali su lungomare Bracale di Santa Maria.